Dal 15 giugno, data di inizio della campagna estiva antincendi boschivi, ad oggi sono state 511 le richieste trasmesse dalle regioni al Centro Operativo Aereo Unificato, COAU, del Dipartimento della Protezione Civile. Quest'anno l'impegno della flotta aerea dello Stato si concentra prevalentemente al sud, in particolare in Sicilia e Calabria, che hanno fatto registrare rispettivamente 257 e 111 richieste. Complessivamente, nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli antincendio locali, la flotta dello Stato ha operato finora su fuoco per 1.343 ore, con oltre 4.600 lanci d'acqua e liquido ritardante ed estinguente. Per la stagione estiva 2019 la flotta nazionale può contare su un massimo impiego di 31 veivoli, di cui 16 Canadair, due dei quali attivati nell'ambito del progetto europeo Better Use of Forest Fire Extinguish Heat, schierati sul territorio italiano, ma prioritariamente dedicati all'intervento all'estero in caso di attivazioni del meccanismo di protezione civile europeo e quattro elicotteri Ericsson S-64F del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La campagna estiva terminerà il 30 settembre prossimo.